È da qualche tempo che abbiamo notato come membri di giunta, quindi sindaco e assessori, che c'è una sorta di scivolamento, soprattutto ma non esclusivamente nei social network, in internet, di una critica politica, a volte anche dell'ironia fatta sui amministratori comunali che va ben oltre, che va nelle offese personali e peggio ancora nelle neanche tanto velate accuse di malversazione. Quase che gli amministratori, in questo caso quelli di Bassano, avessero intascato qualche cosa o avessero avuto delle finalità personali nelle azioni amministrative. Allora, finché si scherza, si scherza. Io ho cercato anche di non dare peso per un certo periodo perché magari la speranza che poi sia la rete stessa che metta a tacere questo tipo di cose, questo non è accaduto e quindi credo che per difendere la nostra integrità personale, la nostra dignità e la nostra reputazione, ma anche per mettere dei paletti chiari ai confini corretti del dibattito politico si debba anche portare qualcuno in tribunale.